Grazie Presidente, il Digital Services Act responsabilizza finalmente e protegge i cittadini europei da disinformazione e fake news, ponendo dei limiti all'azione delle piattaforme. La Commissione europea ha svolto un lavoro importante, ma c'è ancora molto da fare. Però del resto, se Trump non è contento, penso che siamo sulla strada giusta. Anche gli Stati membri, i garanti della privacy, vanno nella stessa direzione. Mi riferisco, per esempio, al divieto assoluto della pubblicità targettizzata nei confronti dei minori. Serve però andare oltre. Ad esempio, grazie al Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, abbiamo aggiunto tra i sistemi ad alto rischio e quindi maggiormente regolati, quelli che operano nell'ambito dei processi democratici. Abbiamo introdotto poi l'obbligo di etichettare chiaramente un contenuto generato da intelligenza artificiale per contrastare l'abuso dei deepfakes. Proteggere quindi la nostra democrazia dalla disinformazione è proteggere il nostro futuro. Vale in Europa, ma vale anche a livello globale. Grazie mille.